Qui abbiamo fatto il prosciutto cotto ieri sera, l'ho lasciata raffreddare qui tutta la notte e adesso lo apriamo. Ecco qui si è raffreddato, se ne è andato a 17 gradi e adesso questo era pieno prima, adesso come vedete è svuotato, togliamo il copercio e adesso ecco qua, una bella tavola così lo apriamo, questo era un pezzo intero, adesso vediamo cosa, l'odore è molto buono. Ciao che fai? Sto tagliando il prosciutto cotto che ha fatto nonno Pietro. Ti adora che si sente. Questo l'abbiamo fatto da un pezzo di... come piace a te senza grasso. Buono? Speciale, provare anche la parmigiana. Mi taglio due fettine che me le mangio dopo e li porto. e non è nemmeno tanto asciutto. Bello. Ci vede che c'è? Il saffio, il sugo, l'acqua. Buono. Lo facciamo altra volta anche in cucina. Ok. Alla prossima. Ciao. Ciao. Ciao.